Ischia può avere la stessa dignità delle altre zone terremotate? Ma guarda, se parlate di terremotate di serie A, terremotate di serie B, terremoto serie A, serie B, io dico questo, noi abbiamo fronteggiato un'emergenza, è chiaro che tutto si poteva fare in un tempo un po' più condensato, questo è chiaro, le esigenze della popolazione, specialmente Casamiccio, perché stiamo parlando di 2800 scifolate, sono tantissime e forse andavano pure, potevano essere fronteggiate con una tempistica più ristretta. È chiaro che però c'è da dire che la problematica terremoto Casamiccio è una problematica molto complicata, abbiamo visto tutti i problemi che sono venuti fuori per poter fronteggiare l'emergenza. Io non credo che nelle altre parti d'Italia che il terremoto è stato fronteggiato con una tempistica diversa. Però la politica è stata più sensibile alle altre zone? Questo fatto non deve giustificare, nel senso che non ci dobbiamo dire, vabbè, lì ci hanno messo due anni, ci hanno messo tre anni per iniziare una ricostruzione e qua possiamo anche addomentarci. È chiaro che tanti altri provvedimenti, quelli che fatti in Centro Italia, potrebbero essere fatti come ribaltamento anche per il terremoto di Ischi, e quindi risolvere la questione in un tempo sicuramente molto più veloce. Quindi questa è stata la cosa che non abbiamo capito, cioè sospendere i mutui, dare i necessari supporti al bilancio del Comune, così come sono stati fatti per Centro Italia, potrebbero essere ribaltati in maniera semplice anche per Ischia.